Il volto della violenza in famiglia è uno dei volti più drammatici perché sicuramente interessa tanti soggetti e soprattutto i soggetti più deboli che sono i figli minori e quindi sicuramente l'attenzione alla violenza nelle relazioni familiari è veramente un'attenzione fondamentale per prevenire situazioni di disagio molto grave, molto pesante per i minori, ma anche per aiutare anche le famiglie a recuperare una relazionalità sana, genuina perché la famiglia non deve diventare da luogo di cura e di protezione invece un luogo di potenziale minaccia per tutti i soggetti deboli sia nel caso delle donne che possono essere le vittime dirette ma anche i minori possono essere vittime indirette ma in qualche modo anche dirette rispetto alla cosiddetta violenza assistita cioè quelle forme di violenza che non sono agite direttamente sui bambini ma le quali i bambini assistono e che provocano comunque un grave perturbamento e uno squilibrio anche nella crescita psicologica dei bambini. Come denunciare queste forme di violenza? Ma adesso c'è una grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, da parte delle procure perché ultimamente ci sono stati degli interventi legislativi più severi, più marcati che danno tante possibilità e anche si dà la possibilità oggi per le donne in particolare di trovare degli spazi di accoglienza nel caso di maltrattamento in famiglia, ci sono le case di rifugio e comunque questi meccanismi diciamo di denuncia possono aprire anche la via a un recupero delle relazioni familiari prevenendo davvero fenomeni che possono essere davvero molto dolorosi.